Musica Dopo un periodo nel quale non abbiamo potuto avere le grandi sfilate del Carnevale di Luano Sono molto felice oggi di riconsegnare le chiavi al Re del Carnevale e quindi di poter dare inizio a un mese di feste Avremo due domeniche con il Carnevale dei Bambini nelle piazze di Luano e poi le due grandi e tradizionali sfilate il 21 e il 28 Devo dire che sono molto soddisfatto che si possa riprendere questa tradizione A me piacerebbe essere una persona comunque che riesce a far divertire quindi un arlecchino Che possa comunque essere anche un buon servo per la propria cittadinanza Oggi abbiamo avuto il gotta del Carnevale d'Italia Siamo veramente felici di aver ripreso questa grande tradizione Con una partecipazione straordinaria di tutte le maschere dal Piemonte, da Bergamo, da Torino, Gianduia, Arlecchino e quant'altri Siamo a riprendere, a rilanciare il grande Carnevale loanese, ligure e nazionale La festa è bella, la festa è simpatica La festa tradisce un'emozione che è difficile trovare parole per magnificarla La cosa migliore è di aver ritrovato tanti amici qua che non vedevo da un po' di tempo E la soddisfazione è più bella alle culani Quindi loano, sono qua loano che non potevo unire oggi per mille ragioni Non solo per la salute o per anni, ma per altre cose Ma per Emanuele e per tutti quelli che dopo cinque anni riescono a fare di nuovo quello che facevano prima Grazie, grazie a tutti voi che vestite il costume come me E viva Torino, e viva la brava gente a qualunque parco arriva Abbiamo anche l'ulivo d'Arnasco a Loano Sì, Ulivio e Atina, che sono i rappresentanti del nostro comune, della nostra cooperativa Anche perché l'olivicoltura è la risorsa del paese da sempre Cosa vi ha spinto a venire l'Uano? Ma cosa ci ha spinto? Anche perché la tradizione e le maschere che sono state registrate come Arnasco, Ulivio e Latina Che è la caratteristica del nostro paese e della nostra cooperativa Quando il vostro carnevale? Ma il nostro carnevale adesso lo faremo proprio il giorno di carnevale il 9 e poi il giorno della pentolaccia Manca l'olio però Manca l'olio, sì Il vino Questo lo potete venire a trovare ad Arnasco